Signor Cullen? Signor Hanna? Oh, cavolo! Non è giusto. Che cosa non è giusto, signor Hanna? Niente. Dunque, ho appena concluso una telefonata col Secnav. Sembra che la CIA abbia arrestato uno dei suoi agenti. Un uomo di nome Donald Banks. No? Niente? Mai sentito prima. Evidentemente era collegato a Zevlos. E anche lui è stato messo sotto custodia. Immaginate un po'. La CIA è in gamba. E voi conoscerete la verità. E la verità vi renderà liberi. Questo è il loro motto. È un bel motto. Avete disubitito ai miei ordini. Eh sì, erano circostanze straordinarie. Lo sono sempre, signor Cullen. Preferivi che lo lasciassimo andare? Non è questo il punto. Lascio ad entrambi corda a sufficienza, ma non potrei mai sopportare di vedervici impiccare. Dov'è finito il terzo topolino cieco? Ha delle scartoffie da compilare. Un'altra storia plausibile. Comunque non voglio vedervi qui domani. Ci dai un giorno libero? Sì. Bene. Se c'è retribuzione, naturalmente. No, mandate giù. A meno che non preferiate una lunga vacanza non retribuita. No, domani va bene. Sul lavoro non faccio mai favoritismi. Nemmeno in caso di circostanze straordinarie. Inizia a piacermi di più il robot. La sento ancora, signor Cullen.